Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Lanciere e come potete vedere ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta Tops Match Attacks Extra. Ed è arrivato anche il momento delle mini-team, sono tre le mini-team che andremo ad aprire in questo video, tutte e tre insieme, sono le ScanX, troviamo le limited edition esclusive che si trovano in queste mini-team, azzurra, dorata e rosa, le apriremo a breve. Prima di partire con l'unboxing, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video. Detto questo ci prepariamo e partiamo con l'unboxing. Siamo pronti e direi di partire da questa tin dorata che al suo interno ha una card veramente interessante e l'andiamo a scoprire insieme subito. Solito pacchetto bianco, sono 36 le carte che contiene ogni tin, 36 carte più una gold limited edition e una card limited edition esclusiva. Partiamo subito con Skip, Jordan Henderson, Siebechu, questa è un Action Highlights ed ecco qui la card limited edition e la limited edition numero 7 è Harry Kane. Continuiamo con Callum McGregor, Ryan Kent ed eccola qui ragazzi la ScanX limited edition di Lionel Messi. Guardate qui che spettacolo, brillantissima è la ScanX quindi edizione limitata di Messi. Continuiamo con Militao, Bamba, Starburst e Koundé, Codice, Piqué, Alvarez, Silva, Orban, Chiellini, Hakimi, Memphis Depay, poi abbiamo Mr. Pioli, Sané, Nacho, GoSense, un altro Action Highlights è Rice, Estupignan, poi uno Spot Update è Dalot, Guardiola, Kristiansen e finiamo con le card speciali abbiamo Rafael Guerrero, Federico Chiesa, Kyoko Furashi, Salah, José María Jiménez, Cristiano Ronaldo, poi abbiamo Jack Grealish, la card Hat-Trick Hero di Dhaka, la card Stars of 2021 di Giorginho e poi abbiamo la Legend di Scholes, la Man of the Match di Tadic e Diogo Dalot è una Crystal. Continuiamo con la seconda Tin e andiamo a vedere che cosa troviamo. Allora, Skip, Henderson, ragazzi lo stesso inizio di prima, Telemans è la Limited Edition numero 5, le prime tre card sono esattamente le stesse di prima, Lazaro, Lacroix, ScanX, eccola qua, è la card di Himmik, ScanX la numero 2, Limited Edition, sono molto belle. Poi continuiamo con Malen, Correa, Pellegrini, abbiamo De Jong, Bergwis, Luciano Spaletti, Xavi, Klassen, Adams, Chiesa, José Mourinho, Ancora un Pioli, Sané, Bayerin, Joao Felix, Starburst, Posteoglu, Dhaka come Action, Mason Greenwood, Fernandinho, poi per le speciali abbiamo ancora Chiesa, ancora Furashi, Kevin De Bruyne, Manuel Neuer, Vardy, Varane, poi abbiamo una card finale, sono tre le card, sono le tre coppe Champions League, San Pietroburgo che sappiamo non si giocherà più ma si giocherà in Francia e poi ci sono le sedi di Europa League e Conference League, poi abbiamo la card autografata stampata di Adams, Niccolò Barella, Stars of 2021, abbiamo la Starburst di Silva, versione Crystal e per terminare abbiamo la Unbeatable, è Cristiano Ronaldo e Man of the Match, Tadic, che abbiamo visto anche nell'altra tin. Ultima tin a disposizione, speriamo di trovare almeno una carta Pro Elite a questo punto. vediamo un attimino che cosa troviamo. Apriamo il pacchetto. Allora, partiamo con Fabinho, Harry Kane, l'altra Limited Edition, la numero 9, è Tony Cross, poi Mark Noble, Dan Juma, Diego Simeone, eccola qui, la Scan X di Jack Grealish, e le abbiamo tutte e tre. Poi abbiamo Rodrigo, Schultz, Inzaghi, Klosterman, De Ligt, Marquinhos, Sebastian Haller, Bucchiele, Allegri, poi altra Starburst, è che sì, Müller, Kamavinga, Estupignan, Trippier, Madison, Elliot, la Starburst di Reguillon. Per le card speciali abbiamo Kyrie Walker, Ansu Fati, Ciro Immobile, il Papo Gomez, Angolo Kanté, Socek, poi una stampata di Kimmik, la finale di Siviglia 2022, questa è l'Europa League, un'altra firmata è Serginio Dest, poi un'altra è Crystal Parallel, è Macalantonio, e abbiamo trovata una, finalmente, Christian Pulisic, oltre a Garcia, Eric Garcia, Man of the Match, e la Cento Club di Momo Salah. Christian Pulisic, Pro Elite, è una versione ovviamente base, perché ci sono anche quelle numerate a 99, a 25, e mi sembra uno su uno, ma hanno una rarità impressionante, si trovano fino a una ogni 4.000 pacchetti. Christian Pulisic è la seconda Pro Elite che troviamo, vediamo se la mettiamo a fuoco, eccola qui, davvero, davvero bella. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, e io vi voglio salutare con le 3 card ScanX, sono le limited edition esclusive delle Mini Teen, ogni Mini Teen costa circa 8€, e si può trovare attualmente sul sito Tops Italia. Prima di lasciarvi però, come sempre, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale, e schiacciare un bel like al video. Con tutte queste fantastiche card io vi saluto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!